Domenica 7 agosto a Roccaraso ci sarà la 27esima edizione del premio Benigno e Filomena Suffoletta. Premiati davvero di alto livello, Presidente il caso di dire? Sì, anche se in realtà noi siamo affezionati a tutti i premiati di tutte le edizioni. Per il nostro modo di vedere, ognuno dei premiati che abbiamo avuto nel corso di queste edizioni ha delle capacità, del talento, un impegno sul proprio lavoro, sul proprio campo di attività che vale la pena di essere ricordato e premiato. Anche quelli di quest'anno sono, secondo noi, di alto livello e li posso brevemente ricordare. Premiamo per la medicina il Professor Giustino Parruti che si è impegnato e si impegna ancora tuttora nel Covid, quindi nelle attività di contrasto a questa pandemia, sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista comunicativo, perché è stata la voce dell'informazione sul Covid in questo periodo e lo è ancora. Poi abbiamo il Dottor Luigi Savina che si è distinto all'interno del Ministero degli Interni, dove ha fatto una carriera splendida perché è partito dai ruoli, diciamo, non più bassi ma comunque ormai che aveva assunto all'inizio, lui è originario di Chieti, fino ad arrivare ai più alti livelli dirigenziali del Ministro degli Interni. Ha guidato le questure delle principali città italiane, è arrivato alla Prefettura di Roma, lui è prefetto e si è particolarmente distinto nella lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo un professore di fisica, Giuseppe Iacobucci, originario di San Valentino, che è professore oltre che direttore del settore del ripartimento di fisica dell'Università di Ginevra e collaboratore costante col CERN. Tra l'altro lui ha partecipato al gruppo di lavoro, all'equip, con lo scienziato X, premio Nobel, che è arrivato alla determinazione del bosone, la particella di Dio, come è stata chiamata. Abbiamo poi Gabriele Gravina, che è la figura più alta del mondo del calcio in Italia, lui è presidente della FIGC e ha, tra l'altro, nella sua carriera un passato da imprenditore. Probabilmente noi crediamo, ma poi lo scopriremo nel momento in cui glielo chiederemo, che anche quel background gli sia servito per dirigere adesso la federazione calcio, anche se il sistema è probabilmente diverso quello di dirigere una propria impresa piuttosto che una sorta di piccolo ministero, come può essere. Infine abbiamo una giornalista, Clara Iatosti, vive e è nata a Roma, ma è figlia di genitori avezzanesi. Lei lavora per TV2000, che è la TV del CEI, e per la sua esperienza professionale e personale ha conosciuto molto bene l'Ucraina e quindi sarà un modo per parlare di questa guerra non dal punto di vista delle guerre, ma per esempio dal punto di vista dei rifugiati, che è un aspetto che lei ha curato molto.